Ciao Alberto, cosa fai il 18 marzo? Il 18 marzo vi aspetto a Firenze la serata extra Cos'è l'extra Alberto? È una festa dove ti danno gli extra E gli extra sono? Allora, se hai un campionino con la scritta extra, salti la pira O se togli la maglia, avrai un giocito gratis Mi raccomando, vi aspetto, ciao! What do you like to try?